Questo è un messaggio rivolto a tutti i componenti del gruppo, d'alta voce, vogliamo sapere come state alle case vostre, se sta la neve, se state bloccati, ci hanno giulato la tomba, ci è tritto l'acqua a capo per farvi un bidet, fate sapere! A Martina la neve, alla terza la neve. A Martina la neve, se state bloccati, ci hanno giulato la neve, se state bloccati, ci hanno giulato la neve, se state bloccati, ci hanno giulato la neve. Mimitrofe, e poi c'è fritta qui, io sono tutti nelle giornali, la Mimitrofe, io sono tutti nelle giornali, la Mimitrofe, io sono tutti nelle giornali, la Mimitrofe, la Mimitrofe. Borsa, gioa, borsa, gioa, borsa, gioa. E' toccato, c'è giro, c'è giro, c'è giro, c'è giro, e poi c'è fritta pò. Borsa, gioa, borsa, gioa, borsa, gioa. Borsa, gioa, 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 gioa, borsa, gioa, 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 gio Grazie a tutti.